Musica Buonasera gentili telespettatori dal telegiornale di TVR. Sapriamo e non potrebbe essere diversamente con le tragiche notizie che ci arrivano dal fronte della guerra. Tutto il mondo ed inevitabilmente anche la nostra regione segue con grandissima apprezzione quanto sta succedendo in Ucraina e l'iniziativa un po' dovunque si moltiplicano. Intanto l'assessore alla sanità Saltamartine ha annunciato che saranno messi a disposizione dei vaccini gratuiti per i profughi che eventualmente giungeranno dall'est Europa come d'altronde sta avvenendo per tutti. Gli arrivi comunque al momento sono graduali e sporadici ed organizzati da familiari e conoscenti e le esigenze logistiche da affrontare sono legate soprattutto agli aspetti sanitari. È stato costituito un coordinamento per la gestione dell'emergenza, decisione presa ieri, durante una riunione in videoconferenza tra Regione, Protezione Civile, Prefetture e Danci. Una troupe televisiva di un service di Ascoli Piceno, la Xentec, aggredita da militari ucraini che hanno fatto irruzione nella loro camera d'albergo a Dnipro con fucili e mitra spianati. Sentiamo la testimonianza che ci hanno fornito proprio Simone Traini e Mauro Folio, vittime di questo clima di enorme tensione insieme all'inviata RAI Stefania Battistini. Tutto alla fine si è risolto senza ulteriori gravi conseguenze. Quello che stava accadendo è, diciamo, a ridosso della diretta di uno mattina sentiamo dei rumori fuori dalla nostra camera d'albergo. Andiamo, Mauro va a controllare, non fa in tempo nemmeno ad aprire la porta che irrompono queste forze speciali ucraine. Ci buttano a terra perquisendoci, puntandoci i fucili Kalashnikov in testa, ginocchia sulla schiena. Ci perquisiscono tutto, il materiale, i telefonini, i telecamere, i documenti. Dopo dieci minuti, quindici minuti, quindici minuti che ci tenevano a terra, fermi, immobilizzati, ci lasciano andare. Dopo un'ora tra chiamate in ambasciata e traduzioni varie, ci rilasciano chiedendoci anche scuse. Questo, come diceva anche la giornalista Stefania Battistini, sta a significare un po' lo stato di angoscia e di paranoia che persiste tra la popolazione ucraina, perché hanno paura di queste infiltrazioni di russi, sabotatori e spie che potrebbero dare informazioni segrete. E questo è un po' lo stato d'animo di quello che si sta vivendo oltre alla guerra stessa. Insomma, comunque noi stiamo bene, ringraziamo anche la nostra produzione, il nostro service che ci dà comunque supporto. E come accennato, da un po' tutte le località della nostra regione si moltiplicano le iniziative di solidarietà e parallelamente si sta cercando di organizzare l'eventuale accoglienza. La Fondazione Ospedale Salesi e le Patronese sono in prima linea, messe a disposizione da subito alcune strutture e lanciato una raccolta fondi per dare un aiuto concreto ed immediato alle famiglie in difficoltà. L'utilizzo di questi fondi avverrà per il tramite di associazioni riconosciute come la Caritas e la Croce Rossa. Anche a Fano, la terza città delle Marche, per numero di residenti, ci si sta organizzando l'Inno Balestra. Dopo la macchina della solidarietà si sta mettendo in moto la macchina dell'accoglienza per ricevere le famiglie in fuga dall'Ucraina in guerra, le donne, i bambini e quindi si stanno predisponendo all'oggi. Anche Fano sta facendo la sua parte in coordinamento con la Prefettura e quindi sentiamo dalla voce del Sindaco del Primo Cittadino che ha avuto un incontro in questi giorni con la Prefettura e altre partnership, qual è la disponibilità al momento, quali sono i posti a disposizione e come si stanno organizzando. La città, il territorio sta rispondendo con grande sensibilità, tantissime persone, tantissime associazioni in queste ore si stanno adoperando per aiutare con le varie forme, però anche su questo ci tengo a sottolineare non disperdiamo energie, facciamo quello che serve perché il rischio è che poi magari raccogliamo più cose che non servono e vanno disperse, è un delitto sul delitto. Poi devo dire grazie veramente a tante persone che sono resi disponibili aprendo la propria casa ospitando delle bambini, delle persone, delle mamme che sono arrivati e questo tocca il cuore, devo dire è stata una disponibilità anche non attesa e questa è la parte bella della nostra città e come sindaco lasciatemelo dire e lasciatemi ringraziare. Però l'importante è continuare a mantenere la continuità perché questa crisi non è una crisi che si chiude dietro l'angolo fra qualche giorno. Detto questo la cabina di regia e il rapporto con la Prefettura sta dando i propri risultati abbiamo già raccolto delle disponibilità per raccogliere la nostra città ci sono già a disposizione dal San Paterniano che era l'alloggio dove ospitavano persone senza tetto e la comunità del Don Orione, quindi già una trentina di posti solo nella nostra città più quelle private delle famiglie. Poi c'è una collaborazione, un patto di collaborazione tra l'ambito sociale perché l'ambito è cui devo ringraziare l'assessore Tinti che coordina il lavoro c'è fatto questo patto di coprogettazione con il terzo settore, con l'ambito proprio per coordinare anche ulteriori posti a disposizione per raccoglierli. Ovviamente è solo l'inizio perché le esigenze andranno sempre più ad aumentare non scordiamoci che l'Italia avrà il 13% delle quote dei frofughi che la guerra produrrà dalle previsioni si pensa alcuni milioni, circa 4 milioni, quindi ovviamente anche noi dovremmo fare la nostra parte. E restando in tema al via la spesa sospesa per l'Ucraina con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di campagna amica da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi. L'appuntamento con l'iniziativa della Coldiretti è per sabato 5 marzo dalle 8 alle 13 nei mercati coperti di campagna amica di Ancona in via Martiri della Resistenza, Macerata, via Morbiducci, Fermo, Piazza Dante, Ascoli Piceno, via Tranquilli. E siamo alla cronaca, i carabinieri di Pescara hanno eseguito 10 misure cautelari personali in carcere e varie perquisizioni anche nelle province di Ascoli Piceno e Pesaro Urbino nell'ambito di un'inchiesta partita nei mesi scorsi su un gruppo dedito allo spaccio di stupefacenti. Nel corso delle indagini erano stati eseguiti altri 6 arresti, impegnati 70 militari dell'arma con il supporto di un alicottero e dell'unità cinofila. In totale gli indagati sono 28, per lo spaccio spesso venivano impiegati anche dei minorenni. In un sequestro del 21 novembre scorso furono rinvenuti 25 kg di droga. Il valore del stupefacente sequestrato, complessivi 28 kg fra eroina, cocaina, ascisce e marihuana, ammonta in totale ad 800 mila euro. Avevano posizionato un bracere in camera da letto per riscaldarsi, ma si è sprigionato del monossido di carbonio che ha messo a rischio l'incolumità di un'intera famiglia di 5 persone, tra cui due bambini di nazionalità senegalese. È successo nel Monte Feltro, esattamente a Belfort, a Lisauro. Fortunatamente si è riusciti a lanciare l'allarme di sanitari del 118 a corsi in piena notte. Hanno trasportato tutti i presenti in ospedale, poi in camera iperbarica. Le condizioni di salute dei componenti, il nucleo familiare, sono buone. E cambiamo ora argomento. La chiesa della Madonna del Sole di Capodacqua nel territorio comunale di Arquata tornerà a splendere grazie al Fondo per l'Ambiente Italiano. Dopo tre anni di burocrazia partono finalmente i lavori che sono stati illustrati nel corso di un incontro ad Ascoli Piceno. Un impegno corale per restituire alla comunità di Arquata un monumento simbolo della devastazione del terremoto del 2016, l'oratorio della Madonna del Sole, che si trova nella frazione di Capodacqua. Il progetto per il restauro della storica struttura è stato presentato ad Ascoli Piceno, al Palazzo dei Capitani, dal FAI, Marco Magnifico, presidente del FAI. È una giornata di grande gioia perché celebra la virtuosa collaborazione tra istituzioni della Repubblica, quelle dello Stato e quelle private, come il FAI. Tutti insieme ce la si fa, se si ha passione, se si ha energia, se si ha fede. È anche una giornata molto dolente perché le immagini di Arquata del Tronto, distrutta nel 2016, mi ricordano le immagini che vedo oggi di Kharkiv e delle altre città dell'Ucraina. E quindi la speranza è che un raggio dalla Madonna del Sole riesca ad arrivare al cuore di piombo di chi ha deciso delle attività così scelerate contro la libertà dei popoli. La struttura risale al 500, resistetta alla prima scossa del 24 agosto, ma venne gravemente danneggiata da quella del 30 ottobre del 2016. Poi, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, ha spiegato la presidente regionale del FAI Marche, Alessandra Stipa, ma anche tra istituzioni e cittadini, l'oratorio della Madonna del Sole è diventata un simbolo della ricostruzione. Il restauro della Madonna del Sole è un simbolo di ricostruzione, di ripartenza. Le motivazioni per cui è stato così lungo il tempo ce ne sono state dette, ce ne sono tante, ma quello che vogliamo significare con questo è il ritorno ad un'identità collettiva del paesaggio, di tutta la comunità di Capodacqua, e speriamo che quindi questo sia l'inizio proprio di un ritorno in quei paesi che sono fondamentali per la nostra Italia. Successivamente il FAI ha promosso una raccolta fondi nazionale, cui hanno risposto tanti italiani donando 380 mila euro. Risorse che si sono sommate al contributo rilasciato dal Ministero della Cultura e alle donazioni raccolte attraverso il portale Art Bonus per ulteriori 490 mila euro. Per la Regione Marche con l'assessore Guido Castelli, un altro simbolo del Piceno, che finalmente tornerà al suo antico splendore. La Regione Marche è impegnata con tutte le proprie forze per far sì che la ricostruzione possa essere un obiettivo possibile e tempestivo. Da questo punto di vista però sappiamo bene, e lo so in particolare io che non faccio altro che girare per il cratere, che la questione della ricostruzione non è solo un fatto fisico, non si tratta solo di riparare casa, si tratta anche di conservare quelle identità che avevano consentito vitalità e sviluppo in zone che prima del 24 agosto del 2016 soffrivano, ma che erano comunque i luoghi che custodivano le parti intime di quella che era la nostra origine, e la nostra identità. Il gesto del FAI si allinea a questo ragionamento proprio perché vuole affermare l'importanza di una ricostruzione che sia anche capace di custodire la bellezza e i simboli. Si tratta quindi di ricostruire, ma si tratta anche di rigenerare. Per rigenerare bisogna sempre tenere a mente quella frase di Karl Krauss secondo cui l'origine è il nostro destino. Operazione della Guardia di Finanza di Porto Recanati durante il mercato settimanale a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale sequestrate ad un ambulante oltre 55 mila articoli tra tessuti e articoli tessili per le case ed abbigliamento non sicuri per il consumatore. Da un più approfondito esame dei prodotti in vendita privi tra l'altro della documentazione sulla loro provenienza è stato appurato che l'uomo a seguito di un ingente acquisto di merce sfusa aveva provveduto autonomamente al confezionamento della stessa utilizzando bustine di plastica trasparenti ed una spillatrice. Il materiale non conforme agli standard di qualità e carente delle minime indicazioni previste dal codice di consumo è stato posto sotto sequestro amministrativo. E veniamo agli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia. Scende ancora il tasso di incidenza accumulativo su 100 mila abitanti che si attesta a 584,38. I nuovi positivi registrati nell'ultime 24 ore sono stati 1.502 in aumento rispetto a ieri ma appunto con un numero decisamente maggiore di tamponi processati. È sempre la provincia di Ancona ad essere la più colpita con 416 casi seguita da Peser Urbino con 277. Netta la diminuzione del numero dei ricoverati complessivi che sono attualmente 192 di cui 19 nelle terapie intensive e 43 nelle aree semi-intensive. Tre invece decessi, due uomini ed una donna tutti con patologie pregressi. I loro comuni di residenza erano Fano, Monte Giorgio e Falconara Marittima. Da lunedì a mercoledì prossimi tre giornate di eventi a Fano l'Its Day Live organizzati dalla Fondazione Its Turismo Marche e Nuove Tecnologie. Lino Balestra. Pochi ne conoscono l'esistenza, gli scopi e la diffusione sul territorio. Sono gli ITS, Istituti Tecnico Superiori per le Tecnologie Innovative, per Beni e le Attività Culturali. Hanno la finalità di far acquisire alta specializzazione tecnologica per un inserimento qualificato nel mondo del lavoro, privilegiare una didattica esperienziale con un apprendimento che si realizza attraverso azione e sperimentazione. Mettere in contatto i giovani con il mondo del lavoro, con corsi biennali, a cui segue uno stage formativo di sei mesi. A Fano, l'Its Turismo Marche ha organizzato tre giornate nelle più suggestive location della città. Ogni giornata è caratterizzata da eventi, seminari, laboratori didattici e laboratori d'impresa che vedranno coinvolti studenti, docenti della scuola e della formazione e imprese del settore turismo e incoming. L'obiettivo di queste tre giorni, il primo obiettivo e il principale, è incontrare gli studenti e i giovani, quindi mettere a disposizione, mettersi al servizio di questi ragazzi e ragazze di 18-19 anni per provare a capire quali passioni, quali interessi, quali attitudini hanno che possano essere favorite verso il mercato del lavoro. L'altro obiettivo è far sì che le imprese ci comunichino quelle che sono le loro esigenze e fare matching tra queste due cose. Quindi, 250 studenti presenti di 18 anni provenienti dalle scuole del territorio e anche di altra parte del territorio delle Marche, dopo una prima parte istituzionale, tanti relatori giovani che hanno avuto successo a 25-28 anni nella loro vita professionale che proveranno a dialogare con questi ragazzi. I giorni successivi, il giorno 8, sarà il giorno degli studenti in cui faremo una formazione dei nostri formatori legata a un tema molto delicato in questo momento, cioè la gestione della DAD, della formazione a distanza, con le metodologie learning, uscendo un po' da quelli che sono gli schemi tradizionali della lezione frontale. Si parlerà quindi di come utilizzare al meglio lo strumento video e utilizzare la gamification, il gioco, come strumento di stimolo per l'apprendimento. Il giorno 9, invece, incontreremo le aziende e i professionisti per parlare di intelligenza artificiale, che è uno dei temi che il nostro istituto sta tentando di sviluppare come professione in ambito turistico e non solo. Ma come si struttura il percorso all'interno dell'istituto per coloro che decidono di frequentarlo? ITS è un percorso biennale, un percorso che ha 900 ore di laboratorio dove imprese, imprenditori, consulenti, professionisti incontrano gli studenti e gli trasferiscono competenze. Al termine di questo periodo del percorso ci sono poi sei mesi di esperienza in azienda dove i ragazzi e le ragazze possono mettere in pratica quanto appreso e spesso questo porta poi a un consolidamento del rapporto tra l'azienda e lo studente. Ma alla fine del percorso di specializzazioni quali sono le percentuali di inserimento dei frequentatori nel mondo del lavoro? Percentuali di occupazione attuali siamo intorno al 75% di occupazione coerente. La parola coerente per noi è molto importante perché tentiamo di parlare di buona occupazione in termini di assolvere quella che è un pochino la volontà del giovane di andare a lavorare in un ambito dove lui vuole lavorare. La Direzione Marittima delle Marche Comando Regionale della Guardia Costiera ha eseguito una serie di controlli sulla filiera della pesca al termine dei quali sono stati sequestrati 425 kg di prodotto ittico ed elevate sanzioni per 33.000 euro. Si segnala un'attività svolta nel porto di San Benedetto che ha condotto al sequestro di tre esemplari di tonno rosso sottomisura non dichiarati allo sbarco e rigettati in mare da un pescareccio successivamente recuperati poi dai subacquei. Fino al 27 marzo una mostra unica celebra Dante al Palazzo Ducale di Urbino si intitola Città di Dio Città degli Uomini Architetture dantesche e utopie urbane Vediamo Siamo a Urbino siamo all'interno del Palazzo Ducale per farvi conoscere una mostra che c'è in questo momento allestita per le celebrazioni dantesche appunto per i 700 anni della nascita del sommo poeta Come mai avete pensato a un'esposizione di questo taglio? Come mai queste tavole così mai viste fino ad ora tutte insieme possono rappresentare un punto focale per allestire una mostra? Dunque Palazzo Ducale è sicuramente uno dei grandi esempi dell'architettura mondiale quindi quando sono stato nominato direttore ho pensato che il Palazzo dovesse anche trovare un punto di incontro con la sua storia architettonica e quindi ho pensato di organizzare insieme alla programmazione di mostre storico-artistiche anche delle mostre incentrate sulla storia dell'architettura per restituire al Palazzo quel ruolo centrale all'interno del percorso creativo quindi approfittando dell'anno delle celebrazioni dantesche e riflettendo con il co-curatore della mostra Luca Molinari abbiamo pensato proprio alle tavole del Danteum il Danteum che è questo monumento eccezionale mai realizzato per le note vicende della guerra tristemente note e purtroppo anche così attuali proprio in questi giorni questo eccezionale edificio doveva essere realizzato su via dei Fori Imperiali raccontando in qualche modo evocando gli spazi dell'opera dantesca le 22 tavole realizzate quindi da Terragni e da Lingeri con inserti di Sironi rappresentano forse uno dei punti più alti dell'architettura razionalista italiana e le abbiamo volute esporre presentandole accanto alla nostra tavola iconica della città ideale per raccontare con un confronto sensibile il rapporto della città con il monumento cosa rappresenta il monumento all'interno della cultura architettonica e in che modo Dante che forse è il poeta più architetto di tutti lui addirittura inventa dei paesaggi dei panorami degli spazi pensate che nel 500 misurano l'inferno Galileo Galilei si diletta a dare le misure esatte dell'inferno quindi si tratta di un luogo architettonico perfetto ecco il luogo diventa un edificio che poi non verrà mai realizzato e lo confrontiamo con la città ideale che rappresenta l'archetipo del luogo architettonico e lo facciamo nelle sale del palazzo per restituire a questo palazzo quel ruolo che tutti gli architetti gli riconoscono cioè di capostipite e punto altissimo della sala dell'architettore italiano sabato 5 marzo alle 20 e 50 sul canale 11 di tvrs andrà in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione di come tutti voi il reality show marchigiano ambientato nel salone di Daniela Curzi si apriranno quindi per l'ultima volta almeno per questa edizione le porte del salone più spiato di Corinaldo ricordiamo tra gli ospiti famosi le immancabili battute di Jonathan Kashanian e siamo allo sport con il riepilogo dei principali avvenimenti agonistici del fine settimana dopo la sconfitta subita a Lecce Lascoli torna al Del Duca nel ricordo dello storico tifoso Angelo Liberati affrontando domenica alle 15 e 30 il Frosinone in una sorta di vero e proprio scontro diretto per i playoff molta attesa in Serie C per il derby Fermana-Ancona-Matelica alle 14 e 30 che davvero unisce motivi di campanile ad impellenti necessità di classifica per i canarini privi tra l'altro di urbinati al Recchione atteso il pubblico delle grandi occasioni alle 17 e 30 invece trasferta decisamente impegnativa per la Vispese a Gubbio in Serie D Match Club a Roma dove la leader Re Canatese senza Gomez cercherà di difendere il suo più 7 dal Trastevere turno comunque molto interessante con i derby tra Fano-San Benedettese e Porto d'Ascoli-Montegiorgio il Castelfidardo cerca punti in casa con il Chieti mentre il Tolentino sarà Basto Girardi ricordo in eccellenza alle 14 e 30 la diretta sul canale 11 di Atletico-Ascoli Biagio-Nazzero a Chiaravalle ieri pomeriggio durante una conferenza stampi in comune è stato presentato il nuovo presidente del Consorzio Pesaro Basket il pool di imprese al fianco della Carpegna Prosciutto Vittoria Libertas Franco Arceci il nuovo presidente del Consorzio subentra Luciano Amadori dalla prossima stagione come mai questa scelta è davvero importante subentro forse prima quindi abbiamo deciso insieme di anticiparlo un po' quindi prima della fine della prossima stagione è una scelta che io trovo molto innovativa del tutto non nessuno aveva pensato una scelta di questo genere ad ogni modo ci ho pensato non poco perché essendo impegnativa sia verso la VL sia verso la città richiede comunque attenzione e anche energie alla fine ho deciso e mi sento contento e soddisfatto di aver deciso per il sì per le poche persone che non ti conoscessero tu hai un curriculum molto lungo puoi descriverne ricapitolarne i punti salienti ma le cose sostanziali sono che ho fatto per cinque anni il direttore della confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole imprese e per circa 16 anni il portavoce del sindaco e il capo di gabinetto del comune di Pesaro cosa porterai alla VL anche dal punto di vista pratico dunque presto per dirlo però è evidente che non dobbiamo vivere solo del passato e dobbiamo apportare qualche innovazione io credo innovazione anche nelle strutture societarie che si possono portare oltre che far crescere il consorzio con degli accorgimenti con delle possibili proposte che valuteremo insieme è ovvio che l'obiettivo deve essere di avere l'ambizione di una società e una squadra che possa essere come dire ambiziosa sia per i tifosi che per la nostra amministrazione comunale per il comune di Pesaro e riprende il campionato di serie A di basket con la Carpegna Prosciutta alle 18.30 Reggio Emilia in una gara infarcita di ex con Caia Cinciarini e Larsson tra i padroni di casa inutile dire che la gradatoria reclama ossigeno per i ragazzi di banchi tra l'altro con l'incognita per tutti di riprendere dopo tre settimane in A2 un aristoprof Abriano quasi disperata riceve scafati da segnalare in B i derbi tra Aurora Iesi Ancona e Senigallia Civitanova un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo situazione per la giornata di sabato con un minimo di bassa pressione sul Mediterraneo centrale che scapperà via verso la Grecia ma ancora determinerà instabilità sul basso adriatico e al sud invece l'anticiclone interesserà le nostre regioni settentrionali di fatti sarà una giornata con ampie aperture del cielo al centro nord mentre ecco la perturbazione al sud con parecchia nuvolosità irregolare a tratti minacciosa precipitazioni almeno di bassa pressione che dal tirreno meridionale si muoverà verso lo Ionio nel dettaglio ecco in sintesi la mappa della nostra penisola condizioni di instabilità dall'Abruzzo verso la Puglia sul basso adriatico giornata invernale con neve anche a quote collinari osservate però dei fenomeni anche sui rilievi interni della campagna Basilicata Calabria e parte di Sicilia qualcosina di molto fugace anche sulla Sardegna orientale venti di tramontana e grecale con neve a quote collinari sul medio tirreno invece al nord condizioni di tempo assolato i dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo nella pallavolo di Serie 1 femminile ennesimo confronto diretto per la Megabox Vallefoglia impegnata al Pallabarton di Perugia domenica alle 17 contro le padrone di casa della Bartocini Forti Infissi ricordiamo che la squadra di coach Fabio Bonafede a 19 punti è attualmente nona con un punto di vantaggio su Casal Maggiore volley maschile fermo per la Coppa Italia ma la Lube recupera Modena e la Videx Grotta Zolina cercherà di alzare il trofeo di a tre domani sera a Bologna nella finale contro Prata di Pordenone e concludiamo con una bella notizia ci vuole in questi giorni Valentino Rossi è diventato papà nella notte all'ospedale di Urbino la fidanzata del campionissimo della MotoGP ritiratosi la scorsa stagione Francesca Sofia Novello ha dato alla luce Giulietta mamma e babbo sono al settimo cielo benvenuta Giulietta Rossi recita il post su Instagram bene con questo è tutto grazie per la cortesa attenzione appuntamento a domani grazie per la visione 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 grazie per la visione